...issimo. Ronnie. Le immagini, le foto, le fotografie. Suo fratello Filippo ce ne ha fatte molte. Credo che faccia il fotografo adesso. Lui vuole che suo fratello continui a fare foto. Che scherzo è questo? Sei venuta qui a dirci che a Ronnie piacevano le foto del fratello? Hai una vaga idea di quello che passa ogni giorno, ogni volta che attraverso quella porta? Può finire di ascoltarlo? C'è dell'altro. Ma tu sei qui per il bambino. Il primo amore è puro perché diamo tutto il nostro cuore e la nostra anima a quella persona. Sa bene quanto soffri da quando è scomparso e ha trovato il modo di continuare a esistere nella tua vita. Questo bambino è una parte di te, perciò è anche una parte di Ronnie.